ciao ragazze ragazzi e lo so sono due settimane che non faccio il video purtroppo fai una cosa poi ne fai un'altra poi ne fai un'altra il tempo vola comunque volevo fare il video in collaborazione con roberta amen ciao roberta un bacio già abbiamo saltato se non sbaglio già il mese scorso ora non mi ricordo comunque non sono chissà quante cose ma ho fatto una serie di braccialetti prendendo pure spunto da dai video di silvia creazioni andate a vedere il suo canale non la conosce io non mi perdo un video di silvia perché mi piace troppo e quindi avevo visto questa offerta ma circa li tenevo da un sacco di tempo queste maglie ma non so che cosa farne e quindi avendo visto il suo video mi è venuta questa idea di fare questi braccialetti e vi faccio vedere ma tutta questa serie di braccialetti sia argentati che dorati allora il primo è questo qua e ci ho attaccato questi mezzi cristalli scusate la luce ma più di questa sono nella camera dalla mia camera da letto poi quest'altro è sempre argentato sì con quest'altro cernese poi sempre argentato con questo altro cernese allora questi li trovate tutti sulla mia pagina facebook perché già ho fatto tutte le fotografie di queste cose che vi faccio vedere poi quest'altro qua poi quest'altro qua e sono davvero belle sono proprio per il natale dorate e argentate ora ci sono le dorate allora dorate dorate sono più pochi perché mi sembra che mi sembra che no due gialle se ne sono prese due mie amiche dorate e questo con quest'altro infatti dorati ce ne sono soltanto quattro perché un'altra se lo devo devo mettere il charmes su un altro poi ho fatto questo braccialetto perché la fettuccia mi piace tantissimo e questo è uno dei componenti quando comprai il materiale da roberta serena per distinguere la roberta ame e tutti questi charmes e piccolini pure la fettuccia sono tutti i componenti che comprai da lei e ho fatto questo braccialetto perché poi il grigio a me in inverno mi piace tantissimo sul colore grigio poi ho fatto questo qui che devo fare il tutorial perché me l'ha richiesto elena ciao elena un bacio e al più presto ti farò il tutorial questi braccialetti sono davvero molto belli perché si possono fare con le perle puoi farlo cioè veramente puoi farlo a fantasia proprio tua con i mezzi cristalli sono spettacolari che io adoro i mezzi cristalli poi che cosa ho fatto poi vabbè ho fatto questo anello vabbè questa era una pietra rosa mi piaceva il colore e l'ho attaccata sopra una base di anello poi questi qua invece siccome tenevo tutte queste perline tutti questi chips questi questi pietri che si fanno gli alberi della vita che io sono negata non ho provato a farli ma non ci sono riuscita ho fatto questo anello ho fatto un esperimento di questi anelli ma il penso che federica ciao federica un bacio lei è bravissima col wire diciamo che è stato un esperimento ma non è che mi piace molto ma ecco un po di luce e quindi volevo smaltire questi queste perline e ho fatto questa e poi ho fatto quest'altra con l'azzurro e queste pietre rosse quindi però non è che non lo so non mi piace non lo so non è che mi ispirano molto fatemi sapere sono carine poi quest'altra quest'altra qui che questa ne devo fare altre tre perché mi sono state richieste queste collanine così con tutte queste cose ecco questi fiocchi invece questa qua e la tengo io come diciamo come base per fare le altre collanine e poi invece ho fatto a quest'altra vabbè un piccolo cuore con la catenina che gli ho messo sopra allora non è che ho fatto chissà che cosa avete visto però perché ho perso tempo perché che cosa ho fatto non so se sapete se qualcuno a ma poi ho fatto pure questi questi mi hanno dimenticato di farveli vedere questo cofanetto qui col decoupage troppo carino e quest'altro che gli ho messo due fiocchetti con la pasta di mais qua ho messo delle berline e qua ho messo le berline poi quest'altra qua più grande con le due stelle sempre fatto con la pasta di mais e poi ci ho messo questi brillantini è venuto è venuta così quindi pure queste scatoline ho fatto una più grande di questo colore qua la di verice la riceve teresa c'è la teresa un bacio per natale poi perché ho fatto pure così poco diciamo non ho fatto chissà che non so se voi se qualcuno di voi ha visto il video cosa c'è sul mio comodino mi piacciono tantissimo questi video allora io tenivo un comodino che comprai tanto tempo fa e lo tenivo in mezzo alla scala alla scala ero convinta che l'avevo buttato e lo pagato un sacco di soldi questo comodino perché erano quei comodini bassi e quindi che ho fatto eccolo qua non si vede perché tutto buio il tempo è orrendo mi faccio vedere quello che si può vedere allora in poche parole l'ho dipinto sotto c'è il verde acqua e sopra c'è il rosa l'ho dipinto a due colori poi ho attaccato tutte queste cose sopra delle delle foto di decoupage questo è il cassettino che va qua e poi questo comodino si alza così e dentro si può mettere tutte le altre cose qua c'è il cassettino poi quando è tutto perciò perso pure più tempo perché comunque c'è fuori un sacco di tempo per restaurarlo diciamo che come se avessi recuperato la 100 euro di questo comodino perché ora riciclo tutto e quindi perciò perso pure più tempo per rimodernare il comodino e poi vi faccio se vi fa piacere vi faccio vedere perché cosa c'è sul mio comodino perché sto mettendo un poco a posto pure la camera da letto e lo voglio fare questo è un video che voglio fare con robertame e niente vi mando un bacio a tutti queste sono le cose che avevo fatto scusate se sono mancata per due settimane vi mando un bacio a tutti ciao robbie al prossimo video